Se c'è un motivo per cui la saga letteraria di 50 sfumature ha fatto parlare così tanto di sé, è indubbiamente la vena erotica del romanzo, che ha conquistato e scandalizzato tantissimi lettori. La pellicola potrebbe però deludere i numerosissimi fan, stando a quanto dichiara Jamie Dornan, interprete dell'affascinante e ricco Christian Grey, il lungometraggio è stato infatti ripulito e sarà una versione edulcorata del libro. Non possiamo alienare il pubblico, ha confessato l'attore a GQ Magazine, deve essere qualcosa che si può guardare, non può essere hardcore. Se lo fosse stato, precisa Jamie, non avrei accettato la parte, bisogna realizzare qualcosa che tante persone possono andare a vedere, quindi non sarà grottesco. Se i fan della saga possono dunque iniziare a disperarsi, c'è da dire che per Dornan il fatto che la pellicola non sarà troppo spinta è quasi un sollievo, anche se con molta professionalità Jamie definisce anche le scene più hot semplice lavoro. Non ho paura di girare scene spinte, ha dichiarato infatti l'attore, è solo lavoro, certo un lavoro strano, ma è sempre lavoro, lo faccio e basta.